Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati, io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità, quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale, bene. Mostrami, cancro, tendenze energetiche affettive per la seconda parte di maggio 2023, grazie. Uh, abbiamo la luna, amici del cancro, quando c'è la luna si parla un po' di voi, no? Quindi siete un po', giocate in casa, diciamo, in questa seconda parte di maggio, quando c'è la luna si parla sempre di sentimenti un po', se vogliamo, cupi, un po' tristi, un po' nostalgici e anche una carta che ci parla di qualche cosa che torna dal passato, probabilmente sono ricordi, paure per qualcuno e non nego che a volte si tratta proprio di persone che ritornano dal passato, però lo andiamo a vedere con i tarocchi. Io intanto, come sempre, vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nullo, se per caso vorreste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o venere, e sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che vi spiega come unire diversi oroscopi, è proprio una guida, parla dell'ascendente, delle linee di tempo. Trovate anche un altro video, sempre nella descrizione, che vi parla di tutto quello che è la sezione degli abbonamenti, quindi i video di crescita spirituale, e trovate anche la mia e-mail nel caso vogliate contattarmi. Ok ragazzi, partiamo con un asso di bastone al contrario, un 4 di coppe al contrario, abbiamo un cavaliere di denari, un 2 di denari, un 10 di denari al contrario, un re di denari, quanti denari devo dire? Vediamo che ultima carta mi danno. Il carro. Bene ragazzi, il 4 di coppe lo sento che risuona con la luna, probabilmente risuona con una ferita del passato che non avete risolto questa luna, andiamo per gradi, allora l'asso di bastone al contrario, mancanza di azione, mancanza di intenzione, mancanza di movimento da parte di qualcuno, e questo 4 di coppe mi fa pensare che siate voi, che siate un po' lì, fermi, in attesa che arrivi un movimento dall'esterno. Probabilmente state aspettando questo cavaliere di pentacoli, o se non fosse una persona nello specifico, è come se avessi bisogno di prendervi il vostro tempo. Magari può essere un tempo di riflessione, un tempo di recupero, o semplicemente vi piace andare avanti in modo prudente direi. Abbiamo anche questo 2 di denari, è come se per qualcuno potesse esserci un'eventuale scelta da dover effettuare. Come vi dicevo ragazzi, per qualcuno potrebbe essere una persona del passato questo cavaliere di denari. E può anche essere, vi dirò che, abbiate già tentato di vedere questa persona, magari nella prima parte di maggio o ad aprile, e che non sia stato possibile vedersi. E per qualcuno è stata l'altra persona a dire che non poteva. O a disdire l'appuntamento, insomma. E questo 2 di denari mi dice che, in qualche modo, state cercando di far funzionare qualcosa, di star dentro qualche cosa. Terminiamo poi, come vi dicevo, con un 10 di pentacoli, al contrario, un re di pentacoli e il carro. Ma queste ne andiamo direttamente a vedere con i mini tarocchi. Ripartiamo dall'asso di bastoni. Se giro il mazzo è meglio. Abbiamo la temperanza e un 5 di bastoni. Sì, ho come l'idea che, per chi ha avuto questo incontro con questa persona, diciamo che le cose non sono andate proprio esattamente rose e fiori, come volevate. Tanta passione può anche esserci stata. E non intendo solo la passione a livello fisico, tipo il discutere, il parlare, il confrontarsi appassionatamente di un qualche cosa. Però è come se non fossero stati sulla stessa lunghezza d'onda. Andiamo a vedere questo 4 di coppe. Uh, morte e sette di coppe. Allora, se fosse appunto un ex, una persona che avete già frequentato in passato, anche solo come amicizie, diciamo, però ho come la sensazione che questa persona non vi convinca molto. Appunto, avete la temperanza al contrario, non siete sulla stessa lunghezza d'onda. È come se non vedeste molte possibilità di sviluppo. Andiamo a vedere il cavaliere di denari. 5 di coppe, re di pentacoli e 8 di spade. Allora ragazzi, il re di denari ce l'abbiamo anche qui, no? Io ho come la sensazione che il re di denari e il cavaliere di denari siano due persone diverse. E che se questa persona sta ritornando dal passato e voi per caso avete già una famiglia o una relazione o uno dei due, insomma, potrebbe avere una relazione, io credo che qui non vediate tanta possibilità di sviluppo per come stanno le cose in questo momento. In effetti avete anche un 8 di spade, che è una carta un po' negativa. Siete un po' nel basso energetico, cercate di tirarvi su con della musica allegra o dei... fate uno switch nella vostra testa quando vi rendete conto che pensate in modo negativo. Andiamo a vedere il 2 di pentacoli. Il diavolo è un 5 di spade. Ragazzi, io credo che siate parecchio negli abissi del vostro subconscio, perché la luna è collegata al subconscio. E di fatti qui con il diavolo, il 5 di spade, c'è parecchia confusione mentale. Fate attenzione ai sogni in questo periodo, perché potrebbe essere che vi arrivi qualche sogno premonitore. Andiamo a vedere il 10 di pentacoli al contrario. Re di coppe e 4 di pentacoli. Voglio andare a vedere il re di denari. Sì, ragazzi, ho sempre più forte la sensazione che uno dei due abbia già una relazione. Ci sia tanto amore, magari anche, perché comunque c'è un re di coppe. Nel senso, se per esempio siete voi la persona che siete già impegnati e ritorna quest'altra persona dal passato, voi nella situazione attuale, nella vostra famiglia, nella relazione diciamo che avete già in piedi, sento che comunque siete innamorati, c'è un sentimento forte tra voi e l'altra persona. Di nuovo anche qui, guardate che interessante, cavaliere di pentacoli e re di pentacoli. Sono uscite tutti e due nella stessa posizione. Allora, sì, ho come la sensazione che qui, perché, adesso andiamo a vedere poi il carro, però c'è appunto questo amore per questa persona, anche se può essere che appunto, avendo il 10, intendo la famiglia, la relazione in cui voi siete normalmente, se avete una relazione e questa è un'altra persona. Diciamo che potrebbe non essere proprio del tutto in equilibrio, però c'è dell'affetto per quello che riguarda questa persona. E qui è un po' come se vi dicessero di andare avanti poco per volta per raggiungere una stabilità piena, anche se le cose magari potrebbero non essere regolarizzate proprio da subito. Andiamo a vedere il carro, poi vi dico se non avete nessuno come si può interpretare la lettura. 10 di coppa è il contrario e abbiamo un 4 di coppe nuovamente che mi è caduto, adesso lo recupero. C'è una scelta. Ragazzi, quando c'è la carta del carro si parla sempre di un movimento o mentale o fisico o emozionale, è un movimento, ci si muove da una situazione ad un'altra. Può anche fare riferimento a un viaggio. Però io qui ho come la sensazione che ci sia una forte paura di rifiuto da parte vostra di una persona o di un passo che voi volete affrontare all'interno della relazione. Per qualcuno, come vi dicevo prima, ci potrebbe essere questa persona che ritorna dal passato e che vi fa prendere semplicemente consapevolezza di quello che già avete e di come potete migliorarlo fondamentalmente. Tenete presente che i due dieci sono al contrario, quindi c'è ancora da lavorare per riuscire ad ottenere quel tipo di stabilità. Può essere che qualcuno a fine mese faccia un viaggio, appunto, come vi dicevo, che ci sia questo movimento, questo spostamento. Però qui ho forte la sensazione che siate, appunto, con due relazioni, una un po' più solida, una un po' più, diciamo, che vi ruota intorno. Nel caso non aveste nessuno, ragazzi, io sento che avete un certo tipo di ideale di quello che potrebbe essere per voi un partner proprio. Ma ho come la sensazione che qualcuno confonda un pochettino il ruolo del partner col ruolo del padre. Vi dico questo perché c'è la luna, si tratta di proiezioni. Adesso questo non risuonerà per molti. Allora, se dovesse, appunto, se non dovesse avere nessuno, vi dico che potenzialmente potrebbero entrare diverse persone, fino a tre, entrare nel senso che potreste conoscere o potrebbero, insomma, in questo periodo riapparire fino a tre persone. Vi dico così perché avete la luna, quindi possono essere sia persone del passato che magari non vedevate da un po', sia persone nuove, ok? Perché comunque si tratta anche di persone nuove. Può essere che non sia una cosa proprio, diciamo così, palese da subito, però vi sento, come dire, andare avanti fiduciosi. Quando c'è cavaliere di pentacoli vi ricordano un po' di andare avanti con prudenza. Va bene. Andiamo a vedere ancora un oracolo per vedere che cosa vi dicono. Ragazzi, sto guardando che, scusate, che per qualcuno può far riferimento anche a una situazione collegata a un padre che non vi lascia, diciamo, liberi di sperimentare la vita. Un padre o una figura genitoriale, però, ho veramente tanti re. E qui abbiamo la luna che è un po' il lato d'ombra del divino femminile. Quindi può essere che il vostro divino femminile sia un po' schiacciato dalle regole. Ok, andiamo a vedere un oracolo. Wow, prosperità! Carta numero 42. Parla di abbondanza e di successo e se ci fate caso il vialetto è lastricato con mattoncini dorati. Sono fatti d'oro. Ma infatti qui in fondo avete un sacco di pentacoli e vi devo dire, ragazzi, e poi comunque c'è anche la carta del carro che è la carta del condottiero, del vincitore, diciamo. E poi abbiamo la carta numero 20 che parla dell'arcangelo Fanuel e parla di speranza, di ottimismo e di nuovi inizi. Quindi, ragazzi, sostanzialmente, se fosse una questione del passato che torna, potrebbe essere un periodo dove state cercando di gestire certe emozioni che ritornano a galla e ho come la sensazione che inizierete a muovervi piano piano verso un altro tipo di realtà. Sia che siate in una relazione, sia che siate in una conoscenza o che siate single. Bene, amici del cancro, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile per capire come navigare l'energia del prossimo periodo. Se sì, potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, commentare. Ogni tipo di supporto per me è importante. Io vi ringrazio del supporto che mi avete dato fino adesso e di essere stati qui con me. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!